buongiorno venerdì primo novembre ogni santi allora il testo di lancio che avevo preparato è molto stringato e dice lo leggo dal cellulare direttamente 14 e 30 maglie strette controllo in stile grande fratello mi riferisco alla super commissione contro l'odio e tasse in stile vampiro e oggi ve le rilico definitivamente perché ve le dovete mettere in testa odio per il popolaccio vedi voto in umbria mi riferisco questo termine è stato usato in un corsivo della di repubblica credo da michele serra da michele serra è la sintesi di questo governo e della sinistra intanto crollano nei sondaggi dopo la botta micidiale dell'umbria e qui finiva il mio lancio però io invece qui vi posso aggiungere una nota su trump e quel che trump ha detto a proposito dell'italia parlando con il suo amico sovranista che ora si è messo finalmente d'accordo elettoralmente con boris johnson ha detto sì che l'italia farebbe bene di converrebbe sotto tutti i punti di vista uscire dall'unione europea uscire dall'euro e altre due tre cosette su donald trump nel tentativo assolutamente inutile se non per chi segue me e non legge altro di contrastare le bufale pazzesche che scrivono i giornalisti italiani e non solo italiani su questo argomento due parole per incominciare sua santità bergoglio non manca una sola occasione oggi nel discorso di ogni santi ha non ha mancato di attaccare la festa di halloween allora halloween è in realtà una festa molto consumistica molto molto divertente secondo me di origine cristiana di origine cristiana irlandese e cristiana facciamola finita col dire che è un rito pagano perché questa è una sonora cazzata dopodiché che nella tradizione cattolica il culto dei morti sia un culto severo e non sia un culto che si sottopone alle zucche vuote agli scheletri e divertimenti ea trick and treats che peraltro è una cosa carina dei bambini minaccia biscotto biscotto scherzetto scherzetto minaccia però quello che voglio dire è che questo papa appena finito di sottoporci le pacciamama e l'idolatria pagana come qualche cosa da onorare in vaticano e allora pacciamama si e halloween no ma facci il piacere caro bergoglio anti occidentale anti 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 europa anti america sei un terzo mondista e forse non avresti dovuto accettare di fare il papa se non hai un progetto di distruzione della chiesa nella testa per intanto la tua tanto tanto annunciata pulizia morale pulizia delle cose che non andavano pulizia dei conti per destinare tutti i soldi dei fedeli ai poveri mi pare che abbia fatto e faccia e stia facendo acqua da tutte le parti e che le inchieste di questi giorni lo stiano rivelando scusate ma questa ce l'avevo proprio nel gruppone perché anche ieri il cardinale segretario di stato ha ritenuto di intromettersi nelle vicende italiane dicendo che bisognava essere tutti d'accordo sulla commissione di cui parlerò cosiddetta dell'antisemitismo che in realtà non è sull'antisemitismo è su tutt'altro e perché non si guardano in casa pace a mamma sì l'obolo di san pietro svuotato sì per affari molto opachi come lo stesso segretario di stato ha dovuto dire e poi e poi è a lui no ma per favore la modernizzazione ha senso unico cioè solo il senso terzo mondista anti occidentale solo per romperci le scatole solo per attaccarci in continuazione essere anti italiani e dai anti europei anti americani è su va bene vado avanti non voglio essere troppo tanto io so che ci sono cattolici che non hanno piacere che io dico queste cose ma io mi ritengo libera mi ritengo libera il dopo umbri è pesante pesantissimo per il governo andiamo ai sondaggi comincio con i sondaggi la lega si conferma il primo partito questo è un sondaggio di guardate che voglio citarli su index la lega si conferma il primo partito con 34 e 3 ne ho due in crescita di 3 e 5 seguito dai 5 stelle col 17 e 9 in calo di 2 e 9 e dal pd che è reta di 2 e 3 attestandosi a 17 e 2 quindi 34 e 3 il primo 17 e 9 il secondo la metà e poi 17 e 2 il pd a seguire fratelli d'italia con 9 8 quindi questo boost di fratelli d'italia si conferma che da fine agosto nei sondaggi ha sorpassato forza italia oggi data in questo sondaggio index al 6 e 2 alla pari d'italia viva che fa segnare un aumento dell'1 e 4 da segnalare la crescita di europa verde che in un casi che passa dal 1 e 2 al 2 e 2 oh grazie un caffè ce n'ho bisogno io oggi sono più morta che viva ve lo devo dire sentite la voce e la flessione delle forze di sinistra dal 2 8 all'1 e 7 sono i dati dei sondaggi ipsos che per il correre della sera era ipsos ho detto una sciocchezza prima ha analizzato gli orientamenti di voto l'indomani del voto in umbra ipsos correre della sera poi sondaggio index centrodestra vicino al 51 per cento vi dico come i partiti di governo calano il centrodestra cresce la coalizione è sondata oggi al 48 e 4 mentre la coalizione giallorossa pd 5 stelle teneviva è il 44 e 3 ed è la sintesi del sondaggio settimane di index research per piazza pulita il programma di formigli sulla sette che date non da ieri sera la lega anche di settimana guadagna sotto gli index con un significativo più 0 3 per attestarsi a 33 e 5 fratelli d'italia passa nella ultima settimana dall'8 e 2 all'8 e 6 per gli azzurri sapete queste sono le differenze tra i sondaggisti i metodi le persone luoghi però sono significativi che le tendenze e i trend siano comuni per gli azzurri un piccolo salto dal 6 e 2 al 6 e 3 forza italia però lontana dall'8 e 8 delle europee e dal 14 delle politiche ricorda l'istituto che il pd era 19 e 5 il 24 ottobre ed è sondato dal 31 dello stesso mese al 19 e 2 quindi ha perso un 0 3 i 5 stelle arriva nelle intenzioni di voto al 17 e 8 ed era al 18 e 8 in questa settimana la peggiore performance è quello che è colato di più primo stop anche per italia viva che passa dal 5 3 al 5 1 stabile il dato di più europa all'1 e 8 mentre i verdi l'abbiamo citati anche prima sono al 2 per cento e gli indecisi sono tanti ancora ecco perché 38 e 9 ecco perché i voti non si strappano necessariamente da un partito all'altro ci sono indecisi ci sono stenuti 38 e 9 e questo è il risultato del dopo elezioni in umbria mentre partita la campagna della calabria dell'emilia romagna e vedete allora qual è la reazione delle forze di governo qual è la reazione del media di governo dei media di potere dell'europa stessa che il popolaccio così l'ha definito michele serra in un corsivo per repubblica va contro ha da essere controllato e ha da essere tassato per essere tenuto basso con basso schiacciato non in grado di ribellarsi ma questa cosa stavolta non funziona andiamo alla commissione una commissione contro l'odio allora avete seguito la polemica su questa commissione è voluta da liliana seghe che in realtà ricalca quella voluta dalla boldrini nella precedente legislatura è una commissione contro l'odio allora fatemi dire intanto che le commissioni speciali in italia non servono a niente non sono mai servite a niente che poi parliamo prima di entrare nel merito di cos'è questo odio spacciato solo per antisemitismo ma così non è che cos'è l'odio allora c'è chi odia gli ebrei c'è chi odia i cineti c'è chi odia le donne i misogini i ricchi frequentissimo in italia un paese di risentiti sociale gli omosessuali altrettanto radicato allora i musulmani i leghisti i pidini i cattolici cioè ci sono tanti tipi di odio e tante parole per manifestare quest'odio allora questo è un paese litigioso in cui l'odio viene dichiarato abbastanza abbastanza esplicitamente semplicemente una volta nei comizi nelle piazze nei bar del paese dei paesi nelle vasseggiate della domenica negli strusci nelle trasmissioni televisive già da decenni ora anche sui social una commissione presieduta da un presunto gruppo di saggi che intanto si suppone che abbiano il dono divino di non odiare nessuno e avrebbero il compito di indicare certi odi buoni e certi odi cattivi no come se non ci fossero già le leggi e le punizioni per chi per esempio sfiora sfiora o esercita diffamazione per chi per chi fa vilipendio di istituzioni di persone di realtà c'è la legge è bene casomai inasprisci le pene in asprisci in asprisci controlli su queste violazioni in asprisci le pene c'è un passo c'è un passo del testo della mozione in cui la senatrice legna segre ha ritenuto di mettere il suo riverito nome che dice così il comitato dei ministri del consiglio d'europa definisce gli hate speech discorsi di odio come le forme di espressione che diffondono incitano promuovono giustificano l'odio razziale attenzione e ci siamo la xenofobia l'antisemitismo o più in generale l'intolleranza ma anche i nazionalismi e gli etnocentrismi capito me nazionalismi e gli etnocentrismi e nelle parole finali che c'è la risposta nazionalismo di etnocentrismo satana demonio allora se io quindi quando giorgio meloni dice dio patria e famiglia e quindi sanziona e quindi sancisce un concetto di nazionalismo e di prevalenza del diritto interno su quello internazionale commette una violazione sanzionabile da parte di questa commissione ma fatemi il piacere cioè c'è un significato chiaramente negativo non per razzismo generalmente sanzionabile antisematismo ma un attacco diretto al nazionalismo e al sovranismo perché se sei sovranista sei razzista se sei xenofobia sei anche antisemita e quindi cosa ha fatto il centrodestra tutto non ha votato tra le tralle gli strilli della carfagna che tenta rifare la quinta colonna di renzi o di pd o non lo so di che o di farsi il suo partito facesse quello che li pare perché non ci aggravasse con questa questa non è la mia forza italia un partito non è mai di qualcuno è un partito è quello che esprimono gli elettori e io credo che gli elettori di forza italia ieri non siano stati d'accordo con la carfagna o con cattane o con brunetta o che cacchio ne so ma siano stati d'accordo con anzi la mia personale opinione che è quella che io che quella che io sostengo e mi dispiace che la senatrice segre si sia trasformata in un feticcio a lei va tutto il mio rispetto per la sua storia per la sua vicenda umana ma vorrei che si rendesse conto che viene usata usata per demonizzare chi si opponga alla commissione che prende il suo nome che si tratta di un'operazione di controllo addobbata bene ma sotto c'è una intenzione infame e e se volete la mia opinione hanno sbagliato ad astenersi il centrodestra ha commesso un errore di prudenza doveva votare contro questa infame inutile se va bene infame se va come tentano di farlo andare loro ma poi non accadrà commissione cosiddetta anti odio che seminerà invece odio farà l'esatto contrario vediamo oh gesù e non posso perdita primo 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 commento in assoluto no è scattato appena l'ho preso appena me l'hai passato è saltato la segre ha perso un'ottima occasione per tacere questa è la peggiore dittatura da quando sono nato peggio dell'unione sovietica somiglia eh su halloween e pacciamama nessuna approvazione sono entrambe celebrazioni di natura satanica mi faccia il piacere si vada a leggere la storia di halloween è la festa dei morti la notte tra i tanti morti e capirà ed è una festa cattolica irlandese portata dagli immigrati irlandesi in america per favore non parlare senza essere informati non alimentare superstizioni non dire cazzate e la pacciamama è idolatria la madre terra dell'idolatria pagana sono due cose profondamente diverse e se certo halloween significa la vigilia di ogni santi incestico se non sbaglio vero allora e grazie a risvetta armani grazie a ermina lazzaro qual era la cosa che mi volevi far leggere cesare indecente questo tipo di commissione hanno l'obiettivo e tapparci la bocca barbara boselli poi ancora la maria fieng grazie 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 a daniela è il primo qua leggiamo allora non sono d'accordo su ciò che dici ma morirei affinché tu lo potessi dire volta era il nostro unico presidente sandro pertini la sinistra deve studiare gli ignoranti costituzionali sono loro e lo so che sono loro ignoranti costituzionali sa senza ricorrere senza ricorrere a volter quello che io le posso dire è che se va a vedere se andiamo a vedere come si pronuncia per esempio in un paese che della costituzione del rispetto della democrazia ha fatto la sua bandiera come gli stati uniti d'america e primo vendamento che dice che la libertà di parole di espressione non si tocca quante volte anche orrendi crimini di odio stigmatizzati la corte suprema non li ha sanzionati non ha preso una decisione generale su questo perché ha ritenuto che dovesse prevalere la libertà di espressione in questo caso poi lo scopo è ambiguo ed è anche dichiaratamente ambiguo è di colpire il sovranismo il nazionalismo la difesa della patria la difesa dei confini che si sta fortemente affermando dopo un trentennio di svendita di svendita a un ideale europeo mai concretizzato si mai realizzato si questa è la verità di questo stiamo parlando il resto sono chiacchiere e veniamo invece a tutte le tasse di cui non la polemica su halloween io non la intendo né aperta né chiusa non vi piace halloween non fatelo non festeggiatelo non fatelo festeggiare i vostri figli però non menate scandalo se poi tollerate che si che ci siano le idolatria la paccia mamma perché non sono paragonabili un quarto d'ora non sono assolutamente paragonabili e bisogna essere onesti dire la verità sono ci sono state delle celebrazioni legate al sinodo in vaticano di recente scandalose quelle sì noi bambino con trick and treats per piacere mettiamo le cose su un piano su un piano di correttezza su un piano di intelligenza su un piano di buon senso che cos'è pericoloso uno è consumismo non vi piace il consumismo non vi piace questa festa un po così diventata volgarizzata posso accettarlo ma pace a mamma è una cosa pericolosa pericolosa quelli che si sono celebrati in vaticano a cotè del sinodo sono riti tribali pagani e quello che sta facendo in america rispetto all'america latina questo papa i suoi con i suoi consiglieri immagino contro la buona parte della gerarchia vaticana che però sono state messe a tacere con uno spoil system un cambio di di comando spaventoso è di annullare tutto ciò che per esempio voi tiua ha fatto in tanti anni di illuminato papato per distruggere in america latina la teologia della liberazione è chiaro il concetto andiamo le tasse tutte le tasse di cui non avevamo bisogno plastica plastic tax tax sugar tax auto aziendali ve l'avevo già detto l'altro giorno ve li voglio specificare ancora meglio dovete saperlo filtri e cartine per le sigarette un diluvio fiscale un diluvio fiscale che arriva con la prima manovra giallo rosé come si temeva scatta anche l'unificazione di imu e tasi ma senza riduzione anzi c'è il rischio di un aumento silenzioso e poi c'è una misura odiosa e dichiarata come odiosa di sospetto contro i commercianti e gli autonomi e vero leggo mi aiuta io cito sempre le fonti specialmente quando sono fonti di miei amici e persone che stimo mi aiuta daniele capezzone in un articolo della verità allora che ho letto stamattina me lo ricordo un po a memoria perché la verità è bloccata e a proposito a quelli della verità non funziona l'abbonamento online uno fa richiede un numero due e non riesce a prenderlo con la carta con sprezzo del ridicolo due giorni fa ve lo dicevo vi ricordate che ve lo dicevo ma con che coraggio prima i colori da serie poi a tg1 titolano meno tasse nella manovra ma quali meno tasse ci vuole veramente una faccia tosta incredibile è un diluvio fiscale facevano prima aumentare l'iva vi ricordate che su questa cosa del magdelladale dobbiamo fare il governo avete presente renzi mentre fa la sua maratonina di new york che lo continuano di dovevamo fare questo governo per evitare l'aumento dell'iva ecco l'iva facevano prima di aumentarla perché così è aumentata su un milione di cose allora mazzata contro le auto aziendali in fringe benefit lo sconto al 30 per cento del valore di automobili e moto concesse in uso cosiddetto promiscuo che ora vale per tutti i dipendenti sarà limitato da agenti rappresentanti di commercio per tutti gli altri saranno calcolati a valore integrale per cui se anche le pagavano giusto giusto ma vi davano la macchina come benefit non ve la daranno più perché non gli conviene più detto in soldoni aumenti sul tabacco allora aumento sulle sigarette di 5 euro al chilo dell'accisa minima sui tabacchi lavorati che vuol dire salve solo però le sigarette elettroniche si aggiunge un'altra novità una tassa su cartine filtri per le sigarette da arrotolare ora io voglio dire per carità fumare fa male per carità fumare va tassato ma le 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 arrotolamenti e il tabacco lo fanno quelli che hanno pochi soldi quindi quindi anziché educarli sulla salute li vuoi proprio ammazzare questo quello che vuoi fare va bene complimenti tassa dracola tassa vampiro il governo vampiro l'ho chiamato io dal primo giorno durante il dibattito ve lo ricordate innescato da simpatico ministro della pubblica istruzione fioramonti aveva detto che voleva bevande che voleva le tasse sulle merendine e sulle bevande con zuccheri aggiunti bene entro 10 mila per 10 per ettolitro per i prodotti finiti euro 0 0 25 per chilogramma per i prodotti predisposti a essere utilizzati in previa diluzione tradotto siete voi in italiano se siete capace c'è una specie diva aggiuntiva in altre parole inevitabilmente destinata a scaricarsi sui prezzi finali al consumo perché è chiaro che aumenti i prezzi a quel punto o no chi si salva la tassa non si applica le bevande edulcorate cedute direttamente da fabbricante nazionale per il consumo in altri paesi ovvero destinate a essere esportate esenti anche le bevande quelle tipo coca zero a bassissimo contenuto plastica guardate questa cosa della plastica è uno scandalo perché loro la chiamano green deal dicono che ci prenderanno un miliardo però si riverbererà pesantemente sui consumatori la plastic tax colpisce i cosiddetti leggo manufatti a impiego singolo con funzione di contenimento protezione manipolazione e consegna di merci un euro per chilogrammo di materia plastica da segnalare in tentativo in estremis di esentare le plastiche compostabile invece paradossi green tasseranno pure ciò che è riciclabile si domanda capezzone e poi avete idea di cosa vuol dire questo sulla produzione sui posti di lavoro non frega niente devono raccattare quattrini come si temeva e come aveva denunciato il presidente di confedilizia giorgio spaziani testa fa notare capezzone e questo è un pezzo che vi leggo integralmente dal suo articolo scatta l'unificazione di imu e tasi senza riduzione c'è il rischio di un aumento silenzioso nel momento in cui si fissa un aliquota dell'8,6 per mille finora infatti c'era un 7,6 di imu e un 1 di tasi ma alcuni comuni non applicavano la tasi il rischio di un peggioramento di trattamento per alcuni è dunque concreto confedilizia sottolinea il fatto che mentre tutti si riempiono la bocca parlando di service tax è sparito qualunque riferimento a servizi scomodando l'imu tasi è una natura è una piena pura patrimoniale come la volete chiamare se non patrimoniale infine resta l'ultima osservazione critica di confedilizia che dice che sugli immobili di roma si trascinano un'imposizione maggiore su roma vilana e su altre città ultima cosa mi interessa dirla riguarda i commercianti e lavoratori ottomani cioè un pezzo preponderante di italia nella relazione tecnica si legge testualmente un passaggio che è un passaggio razzista ecco qua commissione per l'odio questo è il razzismo allora che fate l'aumento di pena funge da monito e deterrente a un comportamento illecito diffuso in alcune categorie del settore del commercio il che vuol dire che tu consideri la categoria dei commercianti tutti degli evasori a prescindere tutti i sospettabili cioè applichi la teoria torquemata del sospetto vi rendete conto non so se vi rendete conto dammi pure cesare dei commenti vediamo se ci sono commenti sulle tasse allora e le tasse sui farmaci omeopatici dimagranti anabolizzanti prima benedetta prima ci impongono la plastica poi ci rimbrottano perché la usiamo facessero pace col cervello e ci spiegassero che è un cambio di mercato l'attuale papa dice lola si spaccia per anticonformista ma in realtà sembra un altro politico e dice che gli alti e bassi mi dicono di standardizzare il volume ci deve essere qualche raffinato tecnico cioè dall'altra parte del mi dice che devi standardizzare il volume quando tesserando l'intelligenza tesserando l'intelligenza che adesso la gente ha in esuberanza rispetto a solo mezzo secolo fa alfredo scuderi grazie ad antonella grazie a vanni river non è per diminuire l'uso ma visto che sono tutti già venduti ci guadagnano il triplo eh lo so grazie ad antonella grazie a caterina grazie a rossella basta con queste tasse questa storia della commissione del reato di stereotipo è veramente spaventosa e poi vittorio fioramonti è peggio di toninelli è il nulla cosmico ancora maria giovanna fiorentino grazie margherita grazie meno male che ci sono ancora dei giorni seri come te capezzone del debio porro giordano hanno grazie al nome della piccola compagnia e categoria dice leonello belforte e infine questo governo la dittatura sostiene luciana smettiamo tutti di pagare le tasse dice claudia beltramini io mi ricordo che la bambina andavamo porta a porta chiede l'emosina per i morti 60 anni fa quindi già facevamo dice tonina una sorta di halloween che è vero tesseranno a tesseranno anche le dirette web cara giovanna dice massimo eh massimo tani e grazie a giampiero che dice che sono ineguagliabili questo mi fa molto piacere e adesso invece vivino porto torres aggiungi ancora qualcosa non si vede neanche neanche sei mesi che fai propaganda politica per salvini vuoi fare la sua portavoce un domani quando sarà in parlamento visto che racconti un sacco di balle con queste tasse allora caro vivino o o mortino o mortaccino come si chiama lei perché non credo che questo sia un nome vero perché voi siete tutti dei troll e don't feed the troll ma voglio approfittare per rispondere ancora una volta intanto le balle sulle tasse le racconta lei perché io ho citato ho citato il testo della manovra è chiaro quando poi se lei risponde a una persona vera le arriveranno addosso tutte queste tasse capirà chi dice sciocchezze chi non le dice io non ambisco a fare il portavoce di salvini perché credo che sia un mestiere terribile devi galoppare troppo devi 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 andargli dietro i ritmi salvini io non li reggerei anche se li ammiro e li stimo non li reggerei io ambisco a dire quello che mi piace dire quello che penso essendomi documentata e basta non sintonizzarsi ma se lei è arrivati a questo punto cioè quasi alla fine ha ascoltato tutto ammesso che appunto non sia un generatore automatico di sciocchezze di fake news di bufale evidentemente un qualche elemento di interesse lo trova e allora perché non entra nel merito perché anziché insultare in modo analfabeta non dice non sono d'accordo su questo perché non dice quest'altro perché non li ha gli argomenti perciò sei una persona vera a rivederci se non lo è lo stesso allora prima di chiudere non so quanto fatto però quanto fatto oggi c'è un cesare molto distratto e l'ho capito l'ho capito ma come mai internet che va male da guardate non ve la prendete con noi c'è un problema che io credo sia romano perlomeno credo romano di internet se non nazionale che ormai è qualche settimana e di cui ho letto anche le notizie sulle agenzie quindi evidentemente non è soltanto un'idea nostra comunque speriamo che siete riusciti a seguire di parare vediamo speriamo che siete riusciti a seguire ugualmente voglio parlare di trump è sui giornali di oggi questa polemica perché il presidente americano ha chiamato an eagle farage che fa una trasmissione il sovranista inglese l'uomo della brexit che fa una trasmissione televisiva e gli ha parlato dell'italia ha detto farebbe bene uscire dall'unione europea la conversazione a cosa serve serve a far capire all'ex leader dell'ukp che i p che se lui e boris johnson riusciranno a chiudere la brexit e gli stati uniti faranno degli accordi separati molto vantaggiosi con il regno unito ma di questo non avevamo dubbio della scoperta dell'america e l'obiettivo è di dividere i paesi europei e contrastare il suo vero nemico nel vecchio continente la germania ma anche questa è la scoperta dell'acqua calda credetemi perché che ce l'abbia con la germania trump l'ha dichiarato quando era ancora candidato che ritenga che sia l'unione europea sia una struttura senza senso perché attrazione tedesco francese e quindi la maggior parte dei paesi non ne ricavano alcun vantaggio anche che gli piacerebbe poter trattare singolarmente con le varie nazioni che sia deluso di non esserci riuscito quanto avrebbe voluto pure dopodiché non si dopo di che la frase è questa l'italia farebbe bene ad uscire dall'unione europea sareste sareste una coppia perfetta per completare la brexit e per lamentarsi delle pastoie con le quali bruxelles rallenta ogni negoziato incluso quello per l'uscita della gran bretagna ora ditemi voi ditemi voi siccome leggo degli articoli in cui questi giornalisti ne ho uno qui davanti del messaggero tal flavio pompetti collega scusami se mi permetto con la sopracciò che dice oh mamma mia ma che orrore da quando è salito alla casa bianca trump ha rinnegato ognuno dei patti che il suo paese era stretto negli anni precedenti dal negoziato sul tp a nafta dall'accordo sul nucleare beh ma si sono trovati male forse gli americani stanno male economicamente stanno male quanto a risultati di politica internazionale e come stanno gli avversari democratici costretti a scatenare una guerra civile all'interno di capitol hill e di washington per tentare di avere una visibilità visto che alla vigilia delle nuove elezioni non sanno che pesci prendere eh caro flavio pompetti o no e è convinto che l'ordine precedente si era cancellare e che al suo posto adano strette nuove intese che porti la sua firma pensate un po non è la prima volta che il presidente degli usa facendo l'opportunità che l'italia esca dalla comunità europea eventualmente dall'euro bene questa è l'opinione di di trump se non si è d'accordo non li si sta a sentire vuole dividere i paesi europei ma perché i paesi europei sono così stupidi da non essere capaci di scegliere o non dovrebbero non dovrebbero essere così stupidi da non essere capaci di scegliere quello che conviene loro questa è l'opinione della di di trump il quale ha poi detto fa così fa così sempre dice quello che pensa poi conclude dicendo facessero un po come gli pare ma sentite come conclude l'articolo il messaggero lo cito ma è un prototipo di quelli di tutti quelli che decidono che loro possono trattare il presidente degli stati uniti d'america che ha portato il livello di disoccupazione a più basso degli ultimi decenni come se fosse il loro compagnuccio cretino è difficile giuricare se la menzione dell'italia nella conversazione con farage sia stata casuale o conseguenze di un perno determinato in piena via di sviluppo trump ha abituato i suoi cittadini così come le diplomazie del resto del mondo a fare i conti con una comunicazione frammentaria vedete scemo che viene nella sua casa bianca fatta più di balbetti cioè balbetta il presidente degli stati uniti e così balbettando che ha portato l'economia che ha portato l'esoccupazione al 3 per cento chiaro e di immediate ritrattazioni che di una strategia lineare e infatti ha concluso ma se l'italia vuole stare della ue va bene così quello che ha concluso trump è se si vogliono continuare a fare del male se ne facciano se ritengono impossibili uscire dall'unione europea perché non hanno la volontà poi di farlo facciano pure così questa è l'opinione mia altro che balbetti e balbettando trump ha annunciato alla city di new york nella quale lui è nato cresciuto e ha come dire fatto i soldi che visto che gli dà milioni l'anno di tasse federali e tasse locali perché new york è la città forse con tasse locali più alte e visto come lo trattano dall'anno prossimo quando torno sarà più presidente tra quattro anni quando sarà cinque anni dice lui la residenza se la mette in florida dove tasse locali non ce ne sono a mara lago e tanti saluti a new york e ai soldi che ha dato per anni a new york capite come balbetta trump adesso vi voglio vedere questi che fanno i politiche ricorrette servono i soldi di trump alla città di new york come i soldi di tutti i milionari allora quando iniziamo la campagna per toscana 2020 sarebbe meravigliosa verti ospite ad uno dei comizi ti aspettiamo carolina pantani grazie carolina la toscana è durissima è impossibile anche che c'è una legge elettorale tremenda maria giovanna carella grazie sempre se non ci fosse lei poro del debito giordano non capisco perché appoggia conte che al servizio di chi chi e che al servizio di merkel chi appoggia conte nessuno di quest'oro che lei ha citato credo fanno i giornalisti se fa delle cose buone racconteranno delle cose buone vogliono far fuori trump sarà poco diplomatico ma dice la verità io le arena cara maria giovanna io segui tutto benissimo indifferita forse la diretta ha problemi grazie di tutte le notizie interessanti di cui parlato grazie un sollievo qualcuno che non se lamenta grazie paola luisa iseglio un dato rifatto che poteri stiano cercando di far fuori trump è un dato rifatto sì se ci riusciranno perché quello è un sistema mica come il nostro si va e viene il collegamento almeno qui a milano mi dice maria chiara e trump ha ragione sono d'accordo con le parole sagge di donald trump ha la mia stima grazie alla pierdominici io sono in macchina la sento benissimo meno male e ancora come hanno fatto con salvini dice paola luisa iseglio ma salvini è qui è vivo è vivo è tra noi non è nell'angolo e io credo che abbia fatto bene a fare quello che ha fatto l'ho sempre sostenuto lo sapete non si deve stare al governo per forza non con un potere non riconosciuto non dovendo fare compromessi sì ma sconfitte tutti i giorni non con gli imbrogli non con i tradimenti non con le leggi le manovre fatte a brusselli invece che fatte a roma non con hai promesso per un anno la flat tax e vieni a scoprire che l'hanno tolta te ne vai basta ci va qualcuno altro e si assume le sue responsabilità e questo questa è la regola di alternanza al governo certo per alternarsi al governo bisognerebbe passare dal voto grazie alfredo scuderi mi vuole far fare ministro della cultura che mi si addice mi ci vedete si vede si sente benissimo il 5 stelle si potrà estinguere come è nato questa è una bella domanda e con questa domanda chiudo il collegamento di oggi perché in effetti io ho sempre sostenuto che un movimento che aveva raggiunto il 32 quanta aveva per cento ci vorrà molto a farlo fuori però certo ha cominciato una strada di precipizio strepitoso e io credo di poter dire che in questa strada di precipizio strepitoso del 5 stelle oltre alle spaventose contraddizioni oltre alla ricerca della poltrona per la poltrona c'è lo zampone di beppe grillo che ha letteralmente venduto al pd di 5 stelle se poi questo converrà al pd o no lo staremo a vedere bene vi saluto vi auguro un buon fine settimana grazie ciao a lunedì